Sara buongiorno, cosa ti porta in piazza del Duomo a Pistoia? Ciao buongiorno, è il primo istamite della città di Pistoia che è anche il primo istamite a cui partecipo io Senti, te sei una blogger anche affermata, come sta andando il mondo del travel e del blogging in questo momento? Ma diciamo per quanto mi riguarda comunque sia bene, io metto sempre passione in quello che scrivo, in quello che faccio negli eventi a cui partecipo e quindi questa cosa mi dà molto soddisfazione Senti, riuscire a raccontare un pochino meglio, un pochino di più Pistoia secondo te? Quale può essere il segreto per gli aspiranti blogger pistoiesi? Ma sicuramente andare magari alla ricerca di luoghi un po' insoliti, di particolarità, di luoghi meno conosciuti e quindi raccontarla più da un punto di vista proprio di persona che abita la città e non turista Benissimo, noi lasciamo Sara Boccolini perché deve andare a raccontare Pistoia in tempo reale Ciao Sara, ci sentiamo online Ok, ciao!